Come abbiamo fatto l'altra volta che c'era, sennò lo rimarriamo. Devo uscire qua, mano sulla gola, sposto, controllo. Preferibilmente un calcio, però non è macchino, ho fermato il sinistro. Lui mette la mano subito qua per difendersi. Vado a fare questo lavoro qua. Abbiamo visto l'altra volta come... La mano è dritta, esce l'osso. La metto così, non è sotto. Ok, non è sotto. Continua a colpire. Qua continua a tenere. Qua è il mio corpo che scende sulle sue braccia, non devo fare fatica con questo a tenere. Ma qua. Bam, bam, bam. Ok. Boom. Ok. Toccate sempre di stare anche... Non è proprio a side, ma qui. Così a meno è vitalissimo. E poi è comodo qua colpire. Ok. E poi... Pa. 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 E. Pa. Arriviamo fino qui. E. Oh. Qui. Qui. Fatti. Finbo lecce l'altro. Quando hai fatto la trovo postura. Mollo questa e cerco di fare questo lavoro qua. Boom. 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 Stesso lavoro. Boom. Boom. Finché non si apre. Basso. Controlo tutto bene, pesante. Boom. 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 Segno giù. Passo. Perfetto. Con sul braccio. Dai. Arriviamo fino qui. Mmh. Che colore.